Allora, l'abbiamo citata e siamo proprio al cospetto, vorrei dire, della signora Gilda Caimo. Caimo, un cognome lauriota, anche un po' lagonegrese, vi è un ceppo anche di... Mamma mia mamma e mio padre erano di laurea. Mamma era di laurea imperiore, mio padre era di laurea superiore. Quindi i genitori, tutti e due, di laurea. Poi si sono trasferiti a Scalea. Sì, mio padre si è trasferito a Scalea, quando hanno fatto l'assata nazionale. E vi ricordate l'anno? Non mi ricordo l'anno, l'anno no, non mi ricordo quando avevo notato, ma pare come la 920, non so, non mi ricordo. Poi siete andata voi? Già andata a Scalea noi, sì. Mio dono e mia sorella appena sono andati a lavorare. Ecco, e poi avete vissuto qui a Scalea? Sempre a Scalea siamo stati. Siete venuti qualche volta a laurea in questi anni? No, no, non so, ci sono proprio laurea io. Ah, quindi sarà l'occasione per venire a laurea, perché chi ci sta ascoltando non lo sa, ma noi vi abbiamo invitato a laurea per i prossimi giorni. Ma se posso venire con le gambe? Allora, noi dobbiamo raccontare una storia importante, una storia internazionale, che è partita da laurea, è passata per la Francia, è andata... Sì, quando ero ragazzo, sono andato in branca, a Marsiglia. Allora si è messo a lavorare e abbiamo andato il primo treno e vogliamo marconare la patente. Poi mio zio ha aiutato i tuoi scambi del treno a Sanremo. E se non è proprio scappato a Brasile, perché i francesi lo stavano ammazzando. Perché lo stavano ammazzando? Perché non voleva i francesi che avevano i tuoi scambi del treno a Sanremo. Quindi, diciamo, vi erano dei problemi e quindi poi scelse di andare in Brasile. Però, allora, signora, stiamo parlando di Nicola Santo, stiamo parlando di un ingegnere, di una persona di grandissimo rilievo, di uno scienziato, di una persona che era capace... Per tutti i mondi interi è andato. Esatto, esatto. Per tutti i mondi interi è andato. Quindi poi dalla Francia si spostò come a... In Brasile. In Brasile. Quali sono i ricordi che vi hanno raccontato, ecco, di questa permanenza di Nicola Santo in Brasile? I ricordi sono quelli che ho visto sulla rivista io. Io tutti i giorni guardavo le riviste. Allora, guardavo sempre queste riviste e gli ho detto, beh, ma io sono comune di lavorare. Io gli ho detto, quasi, quasi, che i genti non vogliono nemmeno. Allora, mio zio ha vissuto 50 anni in Brasile e non ha voluto mai assumare la cittadinanza brasiliana. Quando è morto, ha lasciato l'onore all'Italia. A noi, zero. Il governo italiano aveva pagato 50 anni di cittadinanza italiana, mio zio. Non abbiamo avuto niente. Nemmeno una lira. Signora, quali erano gli episodi che vi raccontavano magari i vostri genitori o persone che conoscevano, che hanno avuto modo di conoscere o di sentir parlare di Nicola Santo? Mia mamma ne parlava. Era mia mamma che ne parlava, due fratelli. Ma i genitori di Scalè non sapevano niente. E cosa diceva vostra madre? Come si chiamava vostra madre? Maria Gaetana. Ecco, cosa diceva Maria Gaetana? Eh, diceva che parlava sempre di due fratelli. Ci sono andati in Brasile, ha fatto queste cose, ha fatto quelle altre cose. Ecco, provate a ricordare qualche cosa di queste, insomma. Allora, innanzitutto, nella città dove poi purtroppo è morto. Come si chiamava la città dove purtroppo poi è morto? Ha morto in Brasile, a Santa Cruz, mi parlo. A Santa Cruz. E mentre, qual era la città che avete detto prima, a microfono spento, dove abitava, dove risiedeva? A Campo Grande. A Campo Grande. Campo Grande, distretto federale. Lui lì stava, lì risiedeva? Lì, lì stava, sì. Lui avete detto anche un'altra città, se non vado errato, qualche minuto fa, no? È un nome un po' brasiliano, no? No, 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 no. Allora ricordo male io, va bene. E quindi, diciamo, in queste città lui ha vissuto e ha operato. Quindi abbiamo detto, insomma, ha costruito aeroporti. Ha costruito l'aeroporto da Nupandana, che ha assorbito tutta l'acqua e ha fatto questo aeroporto. E il 1919 ha volato il primo aeroplano su Roma. Il 1919. Si è stato il primo aeroplano su Roma. E c'era pure lui su questo aeroplano? Eh, non lo so se c'era lui. Però diciamo che questo aeroplano veniva dal Brasile? Eh, forse. O hanno fatto andare a Tali. Comunque è stato protagonista di questo volo. Ah, poi. Ricordate qualche altro episodio legato a vostro... No, 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 non mi ricordo niente. Quindi poi vostra madre... Avete saputo quando è morto? Ha morto l'8 gennaio del 1963. Eh, come avete saputo questa notizia? Una amica di mia mamma. Scresa a mia mamma che aveva morto il fratello. E vedere se ti è rimasto qualche documento. A noi non hanno lasciato nessuno documento. Il Brasile si è aprirato tutto. Aveva l'officina, l'officina era del mio zio. E non hanno dato, non hanno dato niente. Perché l'oro soltava stranieri e non hanno dato niente. Ecco, qualche... Quindi diciamo, queste sono le cose che maggiormente ricordate. Poi, diciamo, altre cose un po' magari sono state dimenticate, un po' non sono state dette, perché comunque era lontano. Ecco, ha mai scritto qualche lettera? Le lettere a mamma scrive sempre. C'era pure una lettera. Ah, e questo è importante. Pure qui l'avete in casa? E la tengo in casa. Ah, questo è importante. E una lettera che dice, cara sorella, cara cognata. Aspettavo che aveva venuto l'Italia, che i parecchi andano. Ce l'ho la lettera sopra, ma non posso salire la scala. Ok, capito. Dice solo questo o dice qualche altra cosa ancora? No, dice che se ne aveva venuto l'Italia, che l'Italia era la patria sua, e tutto questo è loco. Poi dicevamo in precedenza, lui poi non si è sposato, vero? No, non è sposato, non era sposato, no. Ok, capito. E quindi diciamo ha fatto la vita, insomma... Poi ha fatto la vita, solo ha inventato la cosa. E basta. Era un inventore, era uno scienziato, un inventore. È andato per tutto il mondo intero. C'è scritto pure là, sparo, visto. Siete orgogliosa di questo zio? Sì, sono orgogliosa. Però non mi rendo. Vi piacerebbe se il comune di Lauria o altre istituzioni mettessero in evidenza questo vostro zio? Sì, sì, c'ho piacere io. Quindi sareste contenta di questa cosa? Sì, perché qua non ci credono. Qua c'è un ingegnere che fa scuola aeronautica. E non hanno detto che ci cacciano potete quello che è andato all'aeroplano. Ma va, ha detto. Signora, il signor Paolo è una persona splendida. Sì, è bravo, è onesto, è bravissimo. Non che non vedo che è davanti. Però magari quando sono va mi chiamiamo. Quindi davvero una persona speciale che si è appassionata a voi, che siete anche parenti, tra l'altro. E si è appassionata a questa storia. Sono parenti della mia nipota. E si è appassionata a questa storia bella. Quindi davvero anche grazie al signor Paolo, al sindaco. Ho fatto qua, ci hanno fatto, si prendono pure i laurei, con Santa Domung. Io ho una amica d'amica. Io parlavo sempre di Santa Domung. Ci sono le tessi di lauree, cioè si studia questo personaggio. Io parlavo sempre di questa Domung. Allora quando si è giusto a lavorare a Cosenza, io non ci sono potuta andare qui a casa. E il professore ha la prima domanda che ha fatto, ha nominato Santa Domung. Ho capito. Signora, però un piccolo rimprovero ve lo devo fare. Voi in tanti anni non siete venute a laurea. Non siete venute a laurea. Ma è possibile mai? Io non so niente. Dalla vita, faccio solo il guai e il lavoro e basta. Però... Hanno mostrato sempre chi non è del guai. Mamma Porella è morta del guai. Però, diciamo, alla fine insomma la vita è stata vissuta con... Mamma era una donna di Chies e non si rende. Noi siamo in un po' di mandorla e non si rende. I fratelli miei hanno lavorato e si hanno condannato da quello pochettino di lavoro che si hanno fatto. Non ne sono in casa sempre. Probabilmente Nicola Santo era un po' così. Eh, Nicola Santo era così. Pensavo solo a fare pensione, alle tali e a noi niente. E capito. Se c'era mio zio, l'inventore Nicola Santo, già fabbarcavano sulla luna. Perché su Pallon ci debbono scendere e ci debbono camminare. Debbono trovare l'acqua e ce ne fanno puzzo. E poi ne trovano fiume e ce ne faccio intera elettrica. Perché su Pallon ci lo scordano. Allo non lo metto qua, ma su Pallon ci lo scordano. Allo non lo metto qua, ma su Pallon ci lo scordano.